Mi chiamo Pietro Carlo Pellegrini, architetto, io vivo in Toscana, a Lucca, il mio studio è da 30 anni e il mio progetto è il Museo del Memoriale Garibaldi a Caprera, la categoria del restauro. Il mio progetto è il recupero di un forte ottocentesco nell'isola di Caprera, dedicato alla memoria di Giuseppe Garibaldi ed è stato realizzato per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Quindi restaurando questo edificio all'interno si trovano tutto ciò che è la storia e la vita di Giuseppe Garibaldi. È un progetto dove il recupero è importante, ma è importante anche il percorso museale, che è un percorso multimediale che troviamo all'interno del forte. Questo progetto riflette un po' il mio modo di vedere l'architettura, cioè del costruire sul costruito, cioè di avere una voglia di far vedere l'intervento contemporaneo però rispettando l'esistente, perché l'esistente è quello che ci trasmette la storia, è quello che è la storia di tutti noi, specialmente in questo modo che è la storia dell'Italia e quindi il mio intervento è pensato delicato e, come dire, amorevole nei confronti della nostra Italia.